C'è una condanna per l'omicidio di Paolo Stasi, il 19enne ucciso a Francavilla Fontana un anno fa. Quattro anni con rito abbreviato per un 32enne, 6 invece rinvia giudizio. Alla sbarra anche la madre del ragazzo con l'accusa di spaccio. Ex Silva, Fim, Fium e Wilmin assemblea davanti alla direzione dello stabilimento di Taranto. I sindacati preparano le prossime iniziative per chiedere aiuto al governo e interventi concreti a tutela dei lavoratori. In Basilicata a Matera la prima vetrina internazionale dedicata al turismo di ritorno. Due giorni di formazione e business tra operatori italiani e stranieri. Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dell'informazione interregionale di Antenna Sud dai territori di Puglia e Basilicata. Partiamo con la Puglia, partiamo con la pagina della cronaca. A margine dell'udienza preliminare arriva una prima condanna per spaccio di droga nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Paolo Stasi. Il 19enne ha ucciso Francavilla Fontana un anno fa. In 6 rinvia giudizio, prima udienza in corte d'assise il prossimo gennaio. Sentiamo tutti i dettagli. Secondo l'accusa aveva preso il posto di Paolo Stasi. Il 19enne è ammazzato il 9 novembre 2022 sull'uscio della sua abitazione nell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti che fece da sfondo all'omicidio. Per questo inabbreviato, il 32enne di Francavilla Fontana, Pasquale Moldavio, a margine dell'udienza preliminare, è stato condannato in primo grado a quattro anni di reclusione dal GUP del Tribunale di Brindisi. Il giudice ha riconosciuto al giovane le aggravanti generiche, rinviati a giudizio invece altri sei imputati coinvolti nell'inchiesta. Tra questi il presunto killer Luigi Boracino, 18 anni, difeso dall'avvocato Maurizio Campanino e minore all'epoca dei fatti, e che in questa sede risponde solo dei reati legati alla droga, il 22enne Cristian Candida. Accusato dell'omicidio volontario in concorso, aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Alla sbarra anche la madre della vittima, la 53enne annunziata d'Enrico, che nel procedimento, oltre a rispondere dello spaccio, è parte civile insieme al marito e alla figlia, persone offese e la donna in difesa dall'avvocato Francesco Monopoli, mentre a tutelare gli interessi della famiglia Stasi e l'avvocato Domenico Attanasi. Il gruppo, come detto, ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio, formulata dal pubblico ministero Giuseppe Vdenozza. Anche per Mari Rosa Mascia, Sara Canovari e il quarantenne Cosimo Candida, stralciata alla posizione del 25enne Giovanni di Cesaria, tutti gli atti per via di un difetto di notifica sono stati rinviati al pubblico ministero. Tutti a processo in corte d'assise il prossimo 17 gennaio. Boracino, che ha confessato dal carcere l'omicidio di via Occhi Bianchi, sarà giudicato per quel reato dal Tribunale dei minorenni di Lecce. L'udienza è fissata per il prossimo aprile. Sono stati nominati i vertici del nuovo comitato direttivo dei giochi del Mediterraneo e di Taranto per il 2026. Ferrarese, commissario e presidente. Pelillo, invece, vicepresidente. Massimo Ferrarese, presidente. Michele Pelillo, rappresentante della Comune di Taranto, vicepresidente. Il nuovo comitato direttivo dei giochi del Mediterraneo 2026 ha eletto i suoi vertici. Nel corso della prima riunione del nuovo organismo che si è svolta a Taranto, a Palazzo di Città, alla riunione hanno partecipato, in presenza o in collegamento video, tutti i nuovi rappresentanti, oltre a Ferrarese e Pelillo, Manfredi De Leo per il Ministero degli Affari Europei e PNRR, Eliana Ventola e Francesco Paolo Romanelli per il Ministero dello Sport, Giuseppe Manfredi per il CONI e Michele Emiliano per la Regione Puglia. Il nome del nuovo direttore generale sarà invece deciso dal governo nelle prossime ore e nominato nel corso della prossima riunione. Oltre a definire i quadri dell'organismo, il comitato accelera immediato l'invio della nuova versione del masterplan al Comitato Internazionale, che sarà poi discusso dalle parti l'8 e il 9 dicembre a Tirana. Adesso dobbiamo soltanto lavorare. Io fino a ieri ho lavorato come commissario straordinario, oggi non potevo non accettare quest'altro incarico che il governo mi ha chiesto di portare avanti per il bene dei giochi del Mediterraneo, per il Paese e per il nostro territorio, soprattutto per questa città. Porterò avanti anche questo impegno. Dobbiamo lavorare tutti con una grande collaborazione. Adesso ho finito di dire questo al Presidente della Regione. Dobbiamo lavorare tutti, il governo, la regione, il comune di Taranto, tutti i comuni, per centrare l'obiettivo. L'interesse è quello di far bene e soprattutto di consegnare a questa città, fra poco tempo, fra due o tre anni, delle infrastrutture che non avremmo mai potuto immaginare di avere in altro modo. Adesso ci occupiamo della politica Andiamo a Bari, dove Forza Italia apre le porte ad amministratori di tutta l'area metropolitana e guarda i numeri del tesseramento in vista del Congresso. E sulle comunali baresi il Vice Ministro Sisto assicura non deluderemo gli elettori. Sentite. E' un bel rafforzamento, persone di qualità, che hanno prima dimostrato quello che sanno fare, poi fanno politica, come diceva il Presidente Berlusconi, ma soprattutto Forza Italia cresce. Racconta così il Vice Ministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto i nuovi ingressi nel Partito degli Azzurri. C'è chi come Milena Rizzi è consigliera comunale a Bitetto e la sua collega con la delega all'urbanistica a Binetto. C'è Anna Martellotta, che ha corso l'aspirante prima cittadina a Noci, e Maria Morisco, che lo ha fatto a Valenzano. A citarne alcuni, l'obiettivo spiegano, è la doppia cifra alle elezioni europee. Su Bari invece le aspettative sono più alte, con gli occhi fissi, sui congressi di gennaio. Un bel tesseramento, non abbiamo ancora i dati definitivi, ma dovremmo essere sulle 3.000 tessere, fra provincia, Bari, 3.000, 3.500, i numeri sono ancora incerti. E poi le comunali. Nessuna accelerazione sul candidato, ma Sisto assicura, non vi deluderemo. Un tavolo in cui si discute amabilmente, nel tentativo non di mettere un cappello sulla città, ma di mettere il cappello di tutti sulla città. Sarà un candidato amato da tutti, voluto da tutti, non vi deluderemo. Entro quanto? Ma quanto sarà necessario. Il candidato non è soltanto una scelta unilaterale. Ci vuole la condivisione, ci vuole la convinzione, il coltello tra i denti. Insomma, è necessario che il candidato sindaco voglia innanzitutto fare il sindaco. Centrosinistra, di nuovo al tavolo a Bari, in vista delle comunali, ma senza sintesi e con le posizioni che restano distanti. È in corso un vertice, ve lo mostriamo tramite immagini, nella sede della federazione PD del capoluogo, per provare a fare sintesi alla presenza degli alleati. Il Partito Democratico, infatti, nella giornata di sabato, lo ricordiamo, ha zerato la rosa di nomi interna, che comprende l'onorevole Marco Lacarra, gli assessori Pietro Petruzzelli e Paola Romano, e chiesto agli alleati di fare altrettanto. L'area sinistra della convenzione per Bari, invece, arriva all'appuntamento con il nome del penalista e già presidente dell'associazione La Giusta Causa, segno che sabato ha lasciato l'incarico in segno di apertura nei confronti del resto della coalizione, ribadendo la propria disponibilità alla corsa a primo cittadino. Nelle scorse ore ha incassato anche l'appoggio ad Italia Viva, mentre il Movimento 5 Stelle, nell'assemblea di ieri, si è detto soddisfatto dell'esclusione delle primarie come metodo di selezione della candidatura. Andiamo a Fasano, Fasano che si appresta a cambiare volto grazie al G7, dalle strade alla riqualificazione degli edifici fino al miglioramento delle rete dei trasporti. Il tavolo tecnico presieduto dalla Prefettura è già al lavoro e il sindaco auspica unità di intenti e chiede di velocizzare le operazioni. Intanto vediamo i preparativi. A Borgo e Ignazia, in questa mattina di novembre, in cui il clima è piacevole e l'inverno sembra ancora lontano, la vita scorre placidamente, con la consueta, rigorosa privacy garantita ai facoltosi ospiti di uno dei resorti italiani più esclusivi. Il silenzio e la quiete ovattata sono da sempre le caratteristiche del luogo abbinate a quella sobria eleganza che ha convinto tanti divi a scegliere di trascorrere qui più volte le loro vacanze, da Madonna a Russell Crowe, da Sylvester Stallone alla famiglia Benkamp. Ma le star qui sono state molte di più e del loro passaggio non ve traccia. La riservatezza quasi maniacale, imposta dai proprietari al personale, è una garanzia per i personaggi più famosi di trascorrere il soggiorno senza l'assillo di fan e fotografi. Ed è proprio questa estrema riservatezza, abbinata a strutture e servizi di altissimo livello, che hanno portato Giorgia Meloni e i suoi collaboratori a scegliere Borgo Ignazia per il prossimo G7 tra i potenti del mondo, che si terrà dal 13 al 15 giugno. L'annuncio è stato dato dalla Premier il 10 novembre scorso, ma la macchina organizzativa era stata già avviata molte settimane prima, probabilmente già dalla scorsa estate, con il coordinamento del prefetto di Brindisi, Michela Laiacona. Si lavora su due fronti ben distinti, da un lato creare le condizioni di sicurezza per un evento di portata mondiale, dall'altro di adeguare le infrastrutture, soprattutto le strade, a un traffico che in quei giorni diventerà complicatissimo da gestire. Intorno al G7 si muovono non solo le delegazioni dei governi, i servizi segreti e quelli di sicurezza, le diplomazie, ma anche centinaia di giornalisti provenienti da tutto il mondo. E sono proprio le strade il problema più immediato da affrontare, non solo perché sono quasi tutte da riasfaltare, che sarebbe la cosa più semplice da fare, ma soprattutto perché già da quando si lascia la statale esse diventano strette, piene di curve, e in molti tratti talmente piccole che due auto non riescono a passarvi contemporaneamente. Si tratta di vecchi tratturi coperti con una lingua d'asfalto, stretti tra muretti a secco che incorniciano uliveti sconfinati. Qui di certo non potranno mai essere aperte autostrade, bisognerà individuare soluzioni diverse, ed è il primo problema essenziale da risolvere in vista del G7. Abbiamo intervistato il sindaco di Fasano che chiede di essere coesi e anche un'accelerata sulle operazioni. La macchina organizzativa entrerà nel vivo nelle prossime settimane, ma stiamo già lavorando di concerto con le istituzioni nazionali e internazionali affinché tutto sia pronto per la prima settimana di giugno. Si lavora sulle strutture, la viabilità. In un'area della Puglia che negli ultimi anni ha già fatto enormi passi avanti, ma che ora può compiere un salto di qualità definitivo, il G7 a Fasano cambierà il volto del territorio. Su questo non c'è dubbio e si lavora in questa direzione con un tavolo tecnico che riunirà tutti i protagonisti politici e non. Il coordinamento è affidato alla prefettura di Brindisi in costante contatto con il governo centrale. La regia di questo evento è affidata a Sua Eccellenza il prefetto che ha i contatti con il governo e che sarà un po' la cabina di regia, svolgerà il ruolo di cabina di regia per tutto l'evento. Fasano dunque si appressa a cambiare volto grazie al G7. Dalle strade alla riqualificazione degli edifici fino al miglioramento della rete di trasporti, il sindaco Zaccaria auspica unità di intenti. Quindi saranno mesi di grande e intenso lavoro che ci accompagneranno appunto a questo grandissimo evento. Non è soltanto una questione promozionale per il territorio. Certi eventi portano a un'inevitabile riqualificazione anche sotto tutti i punti di vista. Sì, sarà il tema di queste settimane. Stiamo lavorando di concerto per capire dove intervenire e come intervenire. Ovviamente sarà un'occasione, come giustamente ricordavi, anche di riqualificazione nel territorio in attesa anche di poter ottenere risultati sotto il profilo del contenuto del G7 che è un momento di grande confronto tra i potenti della terra che in questo momento devono dare dei messaggi anche importanti attesi da tutto il mondo. E prosegue l'attività del comitato di monitoraggio a sostegno degli enti sciolti per mafia. E nelle scorse ore cinque dirigenti del Viminale si sono recati a Foggia per incontrare la nuova amministrazione comunale e fornire il proprio supporto soprattutto per quanto riguarda la gestione degli investimenti sui fondi del PNRR. Oggi parleremo dello stato dell'arte dopo questo periodo di mancanza di un sindaco degli organi collegiali tipici di un ente locale. Il comune di Foggia prova a mettere una pietra sopra alla triste pagina dello scioglimento per infiltrazioni mafiose e guarda al futuro grazie soprattutto alle risorse del PNRR e proprio il supporto per l'attuazione dei progetti finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta uno degli obiettivi delle attività del comitato di monitoraggio a sostegno degli enti sciolti per mafia composto da dirigenti interni al Viminale e riunitosi nelle scorse ore a Palazzo di Città alla presenza dei massimi vertici della Prefettura e dell'amministrazione comunale. Parleremo anche di PNRR e proietteremo alla Commissione, ai nostri ospiti odierni tutte le azioni che sono state messe in atto in particolare per la rigenerazione urbana con sei progetti che riguardano vari contesti, vari quartieri della città per un importo di circa 60 milioni di euro e ci tengo a dire che il Comune di Foggia consegue anche delle premialità su alcuni progetti perché per la progettazione virtuosa, la tempistica virtuosa che ha portato per alcune misure a un incremento del budget iniziale. Quindi dopo abbiamo in animo di rappresentare alla città le misure che stiamo realizzando e altre alcune piccole misure che sono state anche inviate all'attenzione delle autorità di gestione nella settimana scorsa o due settimane al massimo. Parliamo dell'ex ILVA nelle scorse ore FIM, FIOM e WILM in assemblea davanti alla direzione dello stabilimento di Taranto. Stanno pensando alle prossime iniziative da intraprendere per sensibilizzare ulteriormente il governo e dare un aiuto rispetto alle esigenze e ai bisogni dei lavoratori. La settimana inizia con una manifestazione di protesta da parte dei lavoratori dell'appalto di Acciaieri d'Italia a Taranto prima un corteo nutrito al quale hanno partecipato numerosi lavoratori poi l'assemblea indetta da FIM, FIOM e WILM dinanzi alla direzione per decidere ulteriori iniziative di mobilitazione delle quali si era parlato lo scorso 20 ottobre a Palazzo Chigi. Era stato annunciato uno sciopero in tutto il gruppo entro il 23 novembre, giorno in cui è fissata l'assemblea dei soci di Acciaieri d'Italia. Il socio di maggioranza Arcelor Mittal dovrà decidere se partecipare alla ricapitalizzazione di emergenza per pagare le forniture di gas e adesso far fronte alle esigenze di liquidità più immediate. Abbiamo ovviamente manifestato questa mattina insieme ai lavoratori il tanto disagio che gli stessi lavoratori vivono. Non si può continuare solo e solamente con gli annunci, non si può solamente continuare a dichiarare decarbonizzazione e transizione ecologica, ma poi alla fine sono termini praticamente vuoti di contenuti. È una delle tante iniziative di mobilitazione che come FIM, FIOM e WILM stiamo portando avanti per dire due cose chiare. Uno, che questa attuale gestione è assolutamente fallimentare dal punto di vista della produzione, dal punto di vista dei target ambientali e dal fatto che comunque in questa fabbrica si produce soltanto cassa integrazione. Dall'altra parte è un segnale al governo. Siamo stanchi di aspettare le non risposte, siamo stanchi di fare sciopero per farci convocare e non avere anche in questo caso risposte rispetto al futuro. Saremo il 23 a Milano sotto la sede di Acciaieri d'Italia durante l'assemblea dei soci per continuare la nostra resistenza, per dire di smetterla di decidere sulla pelle dei lavoratori senza il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. Devono rispettare e tutelare la dignità dei cittadini della nostra comunità. La provincia di Bolzano al primo posto per la qualità della vita seguita da Milano e Bologna e Bari è prima tra le pugliesi, ma solo in posizione numero 82 secondo il risponso della classifica stilata da Italia oggi con l'Università La Sapienza. La provincia di Bolzano si posiziona al primo posto per qualità della vita dopo la medaglia d'argento dello scorso anno, Milano e Bologna sul podio e le pugliesi, tutte agli ultimi posti, almeno secondo la classifica d'Italia oggi in collaborazione con la Sapienza di Roma. 14 macro indicatori a fare da termometro, forbici con il centro nord che torna ad allargarsi, Torino e Roma che scalano, una ventina di posizioni sul 2022, Crotone in ultima posizione, e condizioni buone o accettabili per 63 province complessive, ma con aree di disagio sociale e personale sempre più larghe a mezzogiorno. E così per ritrovare una pugliese tocca arrivare fino alla posizione numero 82, quella di Bari, che pure ne perde due, seguita a poca distanza da Lecce e dall'Abbat, che si fermano a quota 85-84, ultima Taranto, al centunesimo posto, preceduto da Foggia al 96esimo e da Brindisi al novantesimo, nel focus su reati e sicurezza, Taranto e prima in 47esima posizione, seguita da Brindisi alla 52, da Lecce, il capoluogo, e alla 53esima per salute e sanità, mentre l'intera regione resta fuori dalla top 10 per affari e lavoro, piazzandosi nello slot numero 77 e ottenendo un poco incoraggiante piazzamento anche sulla disoccupazione maschile nella fascia 15-64 anni. E a Bari invece il momento del rapporto annuale estirato dall'Inps. Sentiamo che cosa è emerso. L'economia nazionale si è ripresa dopo la fase pandemica e così migliorano anche i dati generali. E' quanto emerge dal 22esimo rapporto annuale Inps, presentato già lo scorso 13 settembre alla Camera dei Deputati a Roma ed illustrato anche a Bari. Prima di tutto il PIL nazionale, incrementato del 3,7%, migliora anche il mercato del lavoro con un aumento del numero di assicurati, 26,2 milioni, e delle settimane lavorate. A ridursi è poi la spesa per la cassa integrazione, passata dai 6 miliardi di euro del 2021 ad un miliardo nel 2022. Di 1.915 euro è l'importo medio delle pensioni anticipate e di anzianità, quindi le famiglie, natalità ai minimi stodici con meno di 400.000 nascite registrate. Al 90% è però l'adesione all'assegno unico e universale. In evidenza, ovviamente, in termini anche numerici e di impatto, sono tutte le misure che non sono state messe in campo dal legislatore per favorire l'inclusione lavorativa per le donne, quindi la partecipazione delle donne al mondo del lavoro attraverso i bonus stati di nido, ad esempio, attraverso un allargamento del congetto parentale attraverso l'estensione del congetto di paternità e dipendenti pubblici. Per quanto riguarda la Puglia, ci muoviamo nello stesso senso del resto del Paese. Il 2022 è un anno di ripresa economica, un anno di ripresa del PIL, un anno di ripresa dell'occupazione, in particolare dei contratti di lavoro a tempo indeterminato. Anzi, stiamo assistendo a un progressivo trasferimento dal lavoro autonomo al lavoro dipendente. Sesta edizione del Parlamento Europeo delle Imprese. La delegazione pugliese era composta da Confindustria Taranto e dal Comitato Imprenditoria Femminile di Lecce. Nell'emiciclo del Parlamento Europeo si è tenuta la sesta edizione del Parlamento Europeo delle Imprese. Oltre 700 uomini e donne provenienti da tutta Europa sono diventati membri del Parlamento Europeo per un giorno, dibattendo e votando su alcuni degli argomenti più cruciali per le imprese nell'agenda dell'Unione Europea. Organizzato in collaborazione con le istituzioni politiche, il Parlamento Europeo delle Imprese ricrea una sessione parlamentare e mette gli imprenditori faccia a faccia con i politici dell'Unione Europea per un giorno, per migliorare la comprensione reciproca. L'edizione 2023 è rotata intorno a tre questioni chiave per la comunità imprenditoriale energia, competenze e commercio internazionale, con il mercato unico come tema generale in occasione del suo trentesimo anniversario. La delegazione pugliese era composta da Confindustria Taranto e dal Comitato Imprenditoria Femminile di Lecce. Il mercato è organizzato dalla Eurochambers, che è l'Unione delle Camere di Commercio Europee, e il pagamento europeo nasce appunto per creare quel contatto diretto, quella discussione, quell'interscambio necessario tra il mondo del sistema imprenditoriale e quello delle istituzioni europee. Questo consente non soltanto di porre sul tavolo dei temi importanti come l'approvvigionamento energetico, come le skills, le competenze, la valorizzazione delle risorse umane, oltre al rafforzamento di quello che è il sistema economico europeo nella competizione dei mercati mondiali. È un momento veramente interessante in quanto siamo 700 delegati provenienti da tutti i paesi europei aderenti all'Unione Europea. Dall'Italia siamo 76, pari al numero degli eurodeputati e dalla Puglia dovremmo essere circa 4, 3 da Taranto e 1 da Lecce. E a Mesagne parte il cantiere di Acquedotto Pugliese. È stato inaugurato a Mesagne il cantiere dell'Acquedotto Pugliese per il potenziamento della rete idrica delle zone Torretta e Grutti. Entro 18 mesi l'opera sarà completata per un valore complessivo di quasi 2 milioni di finanziamento derivanti dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un cantiere importante perché ci permette di servire in maniera adeguata due zone della città che sono cresciute dal punto di vista della popolazione negli ultimi anni e che godevano di un servizio parziale. Oggi grazie a questo investimento richiesto dal Comune di Mesagne approvato dall'autorità idrica pugliese e progettato da Acquedotto finanziato dal PNRR quindi questa grande opportunità noi riusciamo a realizzare un'infrastruttura importante che ci permetterà appunto di migliorare il servizio idrico. Questo progetto fa parte della misura M2C4I4.2 relativa alla distrettualizzazione delle reti idriche e alla digitalizzazione e l'obiettivo ovviamente è risparmiare acqua migliorando il servizio quindi tutti gli interventi che saranno tutte le migliorie che saranno effettuate su questa rete concorreranno sostanzialmente all'ottimizzazione del servizio e all'ottimizzazione delle pressioni. Questo è un intervento fortemente evoluto già da anni fa dall'amministrazione comunale Acquedotto Pugliese l'ha recepito quindi ha fatto una progettazione anche piuttosto particolare perché ci sono degli attraversamenti ferroviari attraversamenti stradali e questo porterà questo potenziamento il miglioramento del servizio del servizio idrico Una terapia innovativa in campo onco-ematologico l'ASL Brindisi diventa il secondo centro operativo in Puglia per l'impiego di questa novità Sentiamo Un'innovazione assoluta l'ASL di Brindisi ha annunciato l'impiego di terapie cellulari con CAR-T nell'ospedale Perrino di Brindisi si tratta di una terapia innovativa in campo onco-ematologico che offre una possibilità di cura a pazienti con linfomi e leucemie che sono andati incontro a ricaduta dopo una o più terapie convenzionali è un giorno molto importante per l'ASL Brindisi oggi ma anche per la regione Puglia per tutta la regione perché la procedura innovativa che andremo a inaugurare oggi è una procedura che si aggiunge sicuramente alle procedure classiche chemioterapiche quelle radioterapiche per la cura delle malattie onco-ematologiche ma la cura di oggi è la massima espressione della medicina personalizzata della medicina di precisione perché tende a aumentare quelle che sono le difese immunitarie dell'organismo umano per contrastare la cellula cancerogena presente all'interno dell'essere umano l'autorizzazione all'utilizzo di questa innovativa terapia nel Perino è stata rilasciata dalla regione Puglia l'ASL di Brindisi diventa così il secondo centro operativo in Puglia per l'impiego della terapia CAR-T è della massima espressione oggi della medicina personalizzata perché è un farmaco vivente che poi si è utilizzato soltanto per quel paziente e della medicina di precisione perché colpisce soltanto le cellule tumorali maglie di quel paziente l'analisi del respiro come metodo di diagnosi precoce per il tumore al colon retto la comunità scientifica internazionale guarda il metodo utilizzato al CERBA il centro regionale di Britanalysis ospitato all'interno dell'istituto tumore Giovanni Paolo II a Bari un metodo di diagnosi precoce di alcuni tumori è per la valutazione il monitoraggio dello stato di salute della popolazione e l'analisi del respiro il metodo utilizzato al CERBA il centro regionale della Britanalysis ospitato all'interno dell'istituto tumori Giovanni Paolo II di Bari il test del respiro consente di determinare precocemente le alterazioni metaboliche di natura fisiologica patologica o legate a esposizione ambientale per effettuare l'analisi del respiro si utilizza un macchinario particolare il campionatore Mistral che lo raccoglie ed elabora una sorta di impronta digitale del respiro dall'analisi si ottiene questa impronta digitale che racchiude informazioni utili a individuare precocemente spie della presenza di alcune malattie in Puglia sempre più pazienti potranno beneficiare della tecnica dell'analisi del respiro per la diagnosi precoce non invasiva delle patologie oncologiche questo progetto prevede il reclutamento che ad oggi conta oltre 300 pazienti di soggetti attraverso cui noi possiamo analizzare con un macchinario particolare quasi simile ad uno spirometro il respiro tracciando con un particolare interio l'eventuale esistenza di metabolite all'interno del respiro stesso nel nostro centro ci stiamo dedicando a mesotelioma cancro al polmone e al cancro al conorretto ma stiamo cominciando anche delle sperimentazioni sulla mammella e sulla prostata le applicazioni non sono chiaramente soltanto in campo oncologico ma anche di altre patologie croniche come il diabete come l'asma ci fermiamo per una breve pausa restate con noi torniamo tra pochissimo con altre notizie bentornati con l'informazione interregionale di Antena Sud con le notizie dai territori di Puglia e Basilicata ripartiamo dalla Puglia andiamo a Lecce dove abbiamo fatto un sondaggio a causa delle crisi sempre più cittadini sono costretti a fare rinunce sentiamo Siamo a Lecce nel mercato bisettimanale come vedete tante sono le occasioni che si possono trovare ma i leccesi e i salentini amano più venire a comprare al mercato o amano andare al centro beh lo abbiamo chiesto a loro viene spesso al mercato? no la prima volta? no qualche volta sì le piace più comprare al mercato? o in centro? no al mercato ci sono delle cose insomma che uno conviene che fa il giro conviene ogni tanto si trovano ancora delle offerte? sì conviene? sì sì più comprare al mercato o comprare in centro? beh dipende per quanto si deve spendere diciamo che conviene anche al mercato abbastanza i leccesi comprano al mercato? o meno comprano tantissimo sono bravi i leccesi leccesi o provincia? tutte e due leccesi e provincia quanto è il budget di spesa di solito? 25-30 lei viene spesso a comprare al mercato? sì sì trova la convenienza rispetto al centro della città? certo certo i regali li farà anche di qua i regali di Natale? incomincia a pensarci? sono regali sono regali? sono regali sì e cosa ha comprato un po' di tutto perché scegliete di comprare al mercato? la cosa principale è che al mercato ci piace quindi veniamo un po' le novità le cose così poi non è detto compriamo un po' dappertutto e niente i regali di Natale li farà qualcosina da qui e poi qualcosina anche in giro in centro? dipende 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 da ancora diciamo siamo all'inizio quindi lei è un acquirente o un venditore? nella cosa o nell'altra e qui per curiosare? sì i suoi regali li farà qui che acquistano dal mercato? andando ora vediamo non so ancora quindi dobbiamo vedere viene spesso ad acquistare al mercato? eh sì ogni tanto sì vengo ad acquistare al mercato sì lo fate emozionare signora? ma no ma si figuri ma no una giovane famiglia di pezze di Greco frazione di Fasano ha scoperto casualmente di avere due micro camere in casa una nella stanza da letto e una in bagno padre madre e figlia di sette anni venivano sorvegliati 24 ore su 24 dal vicino di casa ad accorgersene è stata la bimba di sette anni che ha indicato alla mamma quella lucetta rossa che si accendeva nell'aeratore del bagno era una mini telecamera nascosta non solo un'altra spy cam era stata collocata nella stanza da letto matrimoniale pezze di Greco è sotto shock per la storia della giovane famigliola che veniva spiata 24 ore su 24 probabilmente da mesi da un insospettabile seguendo semplicemente i fili collegati con le due telecamere gli investigatori sono arrivati nella stanza ufficio dell'appartamento attiguo quello del proprietario della loro abitazione le telecamere erano collegate a un monitor controllato da un computer dove affluivano in tempo reale le immagini di ciò che accadeva nella stanza da letto nel bagno dei vicini una vicenda delicatissima resa maledettamente ancora più seria dal fatto che in quella casa c'è anche una bambina di 7 anni i carabinieri coordinati dal PM di Brindisi Giovanni Marino hanno sequestrato le due telecamere e tutta la strumentazione informatica dell'uomo che avrebbe spiato all'interno dell'abitazione il materiale sarà esaminato da un perito che dovrà determinare anche recuperando eventuali file cancellati se le telecamere servissero solo a spiare morbosamente ciò che avveniva nella vita privata anche intima dei vicini o se le scene venissero registrate e magari anche cedute ad altri sul dark web in questo caso la posizione giudiziaria dell'uomo potrebbe aggravarsi notevolmente anche e soprattutto per la presenza della bambina nell'appartamento Ennesima truffa un'anziana di Mandure a un sedicente avvocato si è presentato alla porta di un'ottantenne portando via 40.000 euro di bottino tra oro e gioielli 40.000 euro consegnati a un truffatore sull'uscio della porta tra oro e gioielli è l'ennesimo caso di un'anziana truffata avvenuto qui a Manduria la vittima risiede qui in via Bizzarri il copione è sempre lo stesso un uomo si presenta come presunto avvocato difensore di un parente vittima di un grave incidente stavolta il figlio della povera manduriana ottantenne figlio che si troverebbe in caserma interrogato dagli agenti e che rischierebbe l'arresto la richiesta del truffatore beh immaginabile servono soldi per la cauzione per togliere da guai il figlio dunque l'unica cosa che ha potuto fare la donna in buona fede è pagare la cauzione quando apri la porta o dalla finestrino vedi chi sono se li conosci apri se non li conosci non apri altre famiglie sono capitate ma guarda veramente bisogna stare attenti no 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 non si apre nessuno ce l'hai in giro questa roba qua l'inganno è stato poi scoperto dal figlio della vittima che ha presentato subito la denuncia ora aspetta i carabinieri di Manduria di occuparsi del caso adesso invece andiamo in Basilicata in particolare a Matera per la prima vetrina internazionale dedicata al turismo di ritorno due giorni in pensi di formazione e business tra operatori italiani e stranieri grande novità dell'edizione 2023 di Rootsin la borsa internazionale del turismo delle origini promossa da Regione Basilicata e APT in collaborazione con Enit e il patrocino del Ministero degli Affari Esteri sono i Rootsin Lab una serie di laboratori interattivi di marketing comunicazione ricerca e tecnologia per creare know-how e competenze per gestire al meglio il turismo delle radici 25 momenti di formazione suddivise nelle due giornate della borsa in corso a Matera negli spazi di una hotel affidati a 50 tra i principali esperti di turismo per approfondire diverse tematiche relative allo sviluppo di questo settore con una attenzione particolare al rapporto tra turismo delle radici e rigenerazione dei borghi la domanda per i borghi c'è nel post-covid si è visto un aumento incredibile di persone che cercano destinazioni che abbiano le caratteristiche dei borghi più vicine alla natura luoghi relazionali spazi e sono le caratteristiche principali dei borghi se queste opportunità non sono colte è perché il borgo pensa di non essere in grado di non essere sufficiente per poterle raccogliere pensa che se non ha una città grande a due passi se non c'è l'aeroporto di fianco o la stazione ferroviaria o una grande meta vicina pensano di essere insufficienti o come posti letto o come risorse invece la logica è di considerarsi prodotti completi ogni borgo ha così tante cose a livello di risorse ambientali naturali storiche e umane che può costituire una proposta completa riconvertire vuol dire ricciamo cambiare non dimentichiamo la parola conversione è stata usata evidentemente dai nostri missionari convertire una persona vuol dire cambiare completamente il suo punto di vista ma cambiare evidentemente il racconto di queste cose se noi evidentemente questa cosa la leghiamo al tema dei borghi riconvertire vuol dire veramente riscoprire con occhi diversi quello che è diciamo la natura stessa del borgo saperla raccontare in maniera diversa e qui partono tutta una serie evidentemente di azioni da fare turismo delle radici vuol dire anche lingua delle radici quindi sappiamo che nel mondo ci sono oltre 60 milioni di oriundi e potenziali studenti o comunque persone interessate alla lingua italiana questo è molto significativo è un dato già molto significativo oltre a questo sappiamo che la lingua italiana è comunque portatrice dei valori dell'italianità i figli degli italodiscendenti venivano nelle scuole di lingua italiana per cercare la propria identità la lingua in fondo anche l'identità di un popolo e molto spesso le persone che noi abbiamo come studenti che sono persone studenti turisti culturali che vengono a imparare la lingua per poi assaggiare la nostra cultura un altro riconoscimento per Taranto sarà città europea dello sport 2025 assieme ad altre città capoluogo italiane Taranto festeggia ancora sarà città europea dello sport 2025 e arriva così un'altra assegnazione di prestigio da parte di Access Europe la federazione delle capitali e città europee dello sport la designazione riguarda anche i comuni di Ascoli Chieti Jesolo Mogliano Veneto Novara Seregno e Venaria Reale una vittoria in condivisione resa possibile dall'assegnazione alla città di Napoli del titolo di capitale europea dello sport 2026 che ha aumentato i posti disponibili dopo la visita a metà settembre della commissione di valutazione Taranto ha ottenuto uno dei punteggi più elevati un vero lavoro di squadra che oggi ha portato il riconoscimento a città europea dello sport per l'anno 2025 che è un ottimo apripista per i giochi del Mediterraneo e soprattutto un ottimo trampolino di lancio oggi l'invito a coloro che hanno condiviso con noi questo percorso di continuare e soprattutto a metterci al lavoro già da domani per la realizzazione invece del calendario degli eventi per il 2025 Il risultato è stato celebrato a Palazzo di Città in un incontro inframmezzato dai messaggi del presidente del CONI Giovanni Malagò e del presidente di Aces Italia Vincenzo Lupatelli Una bellissima notizia tra la tua città europea del 2025 è giusto e meritato in certi versi mi sento dire anche doveroso se hanno avuto gli sforzi i problemi le criticità e soprattutto il prospettivo di quello che sono i giochi del Mediterraneo Sono molto felice del percorso che avete portato avanti che avete condiviso sin da subito con tutto il mondo sportivo tarantino e per questa edizione è tutto io mi fermo qui grazie come sempre per averci seguito a voi tutti un buon proseguimento Rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo di Puglia di Puglia di Puglia di Puglia di Puglia